cari amiche e cari amici oggi sul decimo toro don curzio buongiorno don curzio buongiorno a voi ho invitato don curzio per farci una introduzione alla vita di pio decimo autore di una delle più importanti encicli di tutta la storia della chiesa la pascendi dominici gregis che fu pubblicata nel 8 settembre del 1907 ed è importante perché è una enciclica contro il modernismo e mi ha colpito proprio la visione profetica oltre a una analisi lucida di ciò che stava accadendo nella chiesa se ce ne parlerà adesso don curzio e questo è il video introduttivo al quale seguiranno alcuni incontri della rubrica il simposio incontri settimanali che ospiterà il decimo toro ospiterà settimanalmente don curzio nitoglia e il professor francesco l'amendola che riassumeremo un po l'intera pascendi che è una enciclica lunghissima però vi daremo gli strumenti per poi e leggerla per conto vostro e comprenderla a fondo questo è il senso di sia di questa introduzione di toglie che di questi simposi dedicati proprio a questa enciclica fondamentale grazie don curzio prego puoi cominciare allora cominciamo con la vita di san pio decimo giuseppe sarto si chiamava così nacque a riese un paesino in provincia di treviso non lontano da venezia il 2 giugno 1835 era papa gregorio xvi nel 1832 aveva condannato il cattolicesimo liberale con l'enciclica ammirati boss fu la prima grande enciclica che condannava il cattolicesimo liberale e in maniera specifica l'abbè della menè che dette nascita questo movimento che è stato il padre del modernismo è morto il 20 agosto del 1914 è stato eletto papa nel 1903 quindi ha pontificato soltanto undici anni è stato il successore di leone tredicesimo e dopo lui è stato eletto papa benedetto quindicesimo è stato canonizzato da pio dodicesimo nel 1954 beatificato nel 51 e pio dodicesimo dovette faticare molto per farlo beato e santo perché il clero anche molti vescovi qualche cardinale non erano contenti di questa beatificazione canonizzazione e soprattutto il cardinale pietro gasparri che andò a procedere a testimoniare al processo di beatificazione contro san pio decimo dicendo che secondo lui aveva esagerato nel sostenere il sodalizio un piano di monsignor benigni e che era un'associazione la quale aiutava il papa più decimo a scoprire chi fosse modernista a condannarlo e a metterlo ai margini della chiesa o anche a prendere provvedimenti disciplinari con scomuniche perché la tattica dei modernisti come vedremo dopo era quella di rimanere nella chiesa nascondersi e poi dar la scalata e arrivare al vertice scusi don corso perché già dunque i papi precedenti si erano resi conto di queste infiltrazioni no mi pare che già pio non non avesse parlato giusto già gregorio già gregorio sedicesimo ne aveva parlato pio nono anche e gregorio sedicesimo quando la polizia pontificia entrò nelle sedi della massoneria dell'alta vendita della carboneria trovò tutti i documenti dell'alta vendita quindi li sequestrò e il papa li dette a cretino gioli un gesuita francese affinché li studiasse bene ci facesse un libro li raccogliesse cretino gioli li raccolse era tutto pronto però poi il papa gli disse di siccome c'erano implicati parecchi papaveri di non dar luogo alla pubblicazione e il padre preso un po da sconforto bruciò tutto e poi gregorio sedicesimo gli dette il via una seconda volta per rifarlo e uscì una seconda edizione breve in soli due volumi abbastanza voluminosa ma avrebbe dovuto essere quasi una encicloperia prima edizione che purtroppo è andata bruciata quindi già sotto gregorio sedicesimo noi abbiamo questa infiltrazione scoperta dalla polizia pontificia di elementi della carboneria dell'alta vendita della massoneria all'interno della chiesa romana il san pio decimo nasce sotto questo pontificato e dopo gregorio sedicesimo verrà e altri papi che condanneranno questo errore del cattolico liberale e il grande papa che ha condannato nella maniera più ferma il modernismo che è l'ultima propagine del cattolicesimo liberale è stato proprio san pio decimo ecco che il cardinal gasparri andò a testimoniare contro la beatificazione di san pio decimo secondo lui aveva esagerato nel sostenere questo sodalizio un piano ma che informava il papa studiava i vari prelati vedeva chi potesse essere modernista e siccome questi mantenevano il segreto modernisti era un'associazione segreta anche quella ma per fini buoni per informare il papa scoprire chi fosse modernista perché voleva rimanere nascosto e poterlo mettere a tacere almeno in condizione di non nuoce e però questa accusa fu dimostrata essere esagerata san pio decimo si si era avvalso anche dell'aiuto del suo delizio in piano ma ma non è che li avesse incitati ad eccedere quindi il processo andò avanti fu beatificato nel 51 canonizzato nel 54 era il più dicesimo disse apertamente che lui lo beatificava e lo canonizzata non in quanto persona privata santo perché i modernisti quando videro che ormai non riuscivano a sventare la beatificazione dissero ma lo fa santo perché era una persona molto semplice una persona umile che pregava a livello individuale non come papa invece più dodicesimo disse no no io lo canonizzo proprio come papa perché come papa è stato un grandissimo papa che ha riformato in senso buono la chiesa e ha condannato gli errori e soprattutto l'errore del modernismo quindi con canonizzò la condanna del modernismo in sampio decimo era il secondo giuseppe sarto di dieci figli e una volta le famiglie erano per fortuna numerose avevamo il primato dei figli e delle famiglie numerose adesso abbiamo il primato dei vecchi dei morti e delle case di riposo il primato delle padanti che rovinano le famiglie e poveri vecchi a questo ci hanno ridotto ebbene il papà era un semplice fattore e poi portava la posta la mamma era una sarta e lui quando andava a scuola per non consumare la scuola delle scarpe si toglieva le scarpe se le metteva sul collo allacciate una all'altra e poi quando arriva a scuola si metteva le scarpe quindi una vita molto dura avuta poi ha cominciato ad entrare in seminario e la sua è stata una carriera tutta pastorale è stato parroco poi è stato vescovo arcivescovo quindi cardinale e patriarca di venezia e poi è stato eletto papa rifiutò quando fu eletto le prime due volte non accettò l'elezione la terza volta fu rieletto e il cardinale di milano ferrari che poi invece entrò in collisione con san pio decimo perché era di tendenza liberale non modernista ma modernizzante gli disse avvertamente guardi questa è una chiamata di dio per cui se lei rifiuta fa un peccato perché dio la chiama stato eletto quindi non può non accettare allora lui accettò davvero non falsamente per falsa umiltà ma dovete accettare perché quella era la volontà avrebbe voluto non farlo ma accettò il pontificato e fu uno dei pontificati più belli più gloriosi più grandi della storia della chiesa quindi non era un curiale non era un professore era un prete molto intelligente aveva fatto un ottimo seminario già da parroco aveva visto che il modernismo si infiltrava sempre di più nella chiesa da vescovo ancora di più aveva scritto delle lettere pastorali condannando questi errori per cui quando scrisse la pacienti lamentabili tutti gli altri documenti certamente si avvalve della consulenza di illustri teologi però molto veniva da lui stesso da sarto che pur non essendo laureato non essendo un professore non essendo un diplomatico era un prete che aveva fatto un ottimo seminario che era molto preparato che conosceva bene la dottrina cattolica basta studiare il catechismo di san pio decimo fatto da lui domande risposte si vede la perfezione davvero il grande teologo che conosce bene il dogma la morale i sacramenti e in maniera molto semplice ma molto profonda riassume tutto nel catechismo non c'è una parola di più una di meno con una semplice frase c'è una tesi di filosofia di teologia riassunta e esposta in maniera lucida chiara e profondissima davvero un capolavoro da studiare da meditare ci si può tra l'altro da un corso da bambino studiai proprio su quello e mi ricordo ancora molte delle domande e delle risposte comunque questa enciclia è veramente è un'enciclia molto molto lunga ma sì c'è sempre chi collabora però emerge una cultura a 360 gradi di questo momento una cultura incredibile mi scusi prego e ecco che allora san pio decimo nel 1858 fu ordinato sacerdote il seminario lo fece a padova e fu nominato parroco poi di tombolo in provincia di treviso poi a treviso fu nominato direttore spirituale del seminario e quindi bescovo di mantua nel 1884 sotto papa leone tredicesimo lì a mantua come bescovo già cominciò la promulgazione del catechismo che poi promulgò in maniera definitiva da papa cominciò a lavorare perché aveva capito che il catechismo del concilio di trento che è stato stilato in gran parte da grandissimi teologi era un catechismo riservato ai parrosi quindi era un po difficile per i fedeli soprattutto per i bambini e per il semplice fedele lui voleva che tutti i bambini semplici le persone anche più ignoranti conoscessero bene la dottrina cattolica il credo il dogma la morale dieci comandamenti e le virtù sette sacramenti la preghiera i mezzi della grazia quindi al congresso eucaristico nazionale che si tenne a piacenza nel 1889 lanciò quest'idea di riformare di rivedere di fare un nuovo catechismo che non fosse solo per i parroci come quello del del concilio di trento ma che fosse per tutti fedeli i più semplici poi lo promulgò lui stesso quando fu sommo pontefice fu eletto quindi patriarca arcivescovo e cardinale a venezia nel 1893 e non gli venne l'esequato un reggio perché allora dopo c'era stata la breccia dei portapieri sorgimento e il vescovo prima di essere insediato doveva ricevere un esequatur il regno italiano doveva dare si può entrare in questa diocesi e siccome era ritenuto un antirisorgimentale un austriacante eccetera eccetera lo fecero aspettare un anno e mezzo prima di poter entrare a venezia poi arrivò l'esequatur e ecco che morì il papa leone tredicesimo 1903 quindi si andò al conclave e san pio decimo era sicurissimo di ritornare aveva portato quasi nulla con sé di ritornare a venezia e nel conclave la notte tra il primo e il 2 agosto del 1903 stava per essere eletto papa il cardinal rampolla del tindaro mariano rampolla del tindaro che era stato segretario di stato di leone tredicesimo del papa morto se non che venne il veto dell'imperatore d'austria nella notte tra il primo e il 2 agosto il cardinale polacco di varsavia vesco arcivesco di varsavia disse che l'imperatore poneva il veto all'elezione di rampolla del tindaro molti cardinali erano indignati non avrebbero voluto e avrebbero potuto ribellarsi e eleggere lo stesso rampolla altri dissero beh per quieto vivere cerchiamo di ottemperare e quindi la candidatura di rampolla sfumò e venne eletto giuseppe sardo e dovettero però eleggerlo per tre volte perché per due volte lui aveva rifiutato le elezioni una persona molto semplice molto umile ma molto ferma e determinata quando fu eletto ci sono le testimonianze dei diplomatici dei rede che andarono a rendere omaggio al papa come si faceva tutti erano rimasti impressionati dalla dignità dalla nobiltà dall'educazione di quello che era ritenuto un semplice contadino quindi leone tredicesimo era un nobile meri del valla anche erano persone molto più nonno lo stesso era nobile di famiglia san pio decimo invece aveva una famiglia molto semplice molto umile però era un personaggio nello stesso tempo di grande finezza di grande educazione che tra l'altro si vede benissimo dalle fotografie questa dignità proprio del del suo ruolo se si spicca proprio è evidente proprio dalle fotografie scusi prego sì perché la faccia è un po lo specchio dell'anima gli occhi tutto si riflette dalla faccia un po quello che uno ha dentro normalmente non sempre è la cosiddetta fisiognomita ebbene ecco che san pio decimo viene eletto papa la prima cosa che fa abolisce questo potere che aveva dei jure non è che fosse strettamente vincolante l'imperatore e quindi il potere laico non poteva più immischiarsi nei conclavi nell'elezione del papa e san pio decimo l'ha abolita in maniera definitiva quindi quando si accusa ampio decimo di essere un austriacante certamente lui e era riconoscente agli asburgo per il bene l'impera austron gaico che aveva fatto alla santa sede come antemurale contro la massoneria però vedeva anche certe volte diceva che gli artigli degli asburgo fanno male perché bisogna saper vedere anche il rovescio della medaglia non è che gli è tutto oro tutto il bene sta da una parte tutto il male dall'altra un po di male sta in qualsiasi istituzione in qualsiasi essere umano in qualsiasi creatura solo dio è totalmente e assolutamente buono quindi ecco che san pio decimo abolisce questo veto che aveva l'imperatore san pio decimo viene eletto il 3 agosto e prende come nome pio in onore di pio nonno soprattutto il grande papa che ha combattuto contro il cattolicesimo liberale e come motto instaurare omnia in questo quindi già questa concezione del cattolicesimo integrale bisogna instaurare restaurare ogni cosa tutto sia il potere temporale sia quello spirituale sia lo stato sia la chiesa sia per la filosofia sia la teologia bisogna fondare rifondare tutto in gesù cristo più decimo sceglie come segretario di stato merri del ball il segretario di stato di leone tredicesimo era rampolla del tindaro adesso san pio decimo sceglie merri del ball era un diplomatico famiglia di diplomatici eh e era un discendente di dominguito merri del ball un bambino che fu ucciso a saragozza e per omicidio rituale ebraico nel 1254 ne parla anche toaffe nel suo libro pasque di sangue è stato beatificato è uno dei martiri beati dichiarato beato dalla chiesa e il patrono dei chierichetti e questo merri del ball aveva delle enormi capacità diplomatiche per famiglia parlava tante lingue conoscenze nobile di famiglia ma era anche molto fermo dottrinalmente antimodernista quindi hanno lavorato in stretta simbiosi san pio decimo e merri del ball hanno formato una coppia molto bene affiatata e hanno mandato avanti questo pontificato in maniera equilibrata e nello stesso tempo molto integralmente cattolica senza eccedere in fanatismi come qualche duro uno forse ha ecceduto e senza cedere a compromessi col cattolicesimo liberale che è stato fortissimamente avversato combattuto e condannato da san pio decimo e da merri del ball a roma san pio decimo volle essere assistito da due sorelle che erano rimaste signorine e scelse come suo segretario particolare il nipote il figlio di un'altra sorella don battista parolin e queste sorelle don battista parolin e alloggiavano al al collegio di maria bambina dove era lieva mia nonna che ha conosciuto quindi le sorelle di san pio decimo battista parolin e è stata anche benedetta da san pio decimo che un giorno andò a trovare le sorelle e mia nonna ruppe le fila e si fece dare una benedizione dal papa per cui in famiglia se sta sempre una grande devozione per san pio decimo il pontificato san pio decimo fu un pontificato integralmente cattolico e più che tradizionalista perché il tradizionalismo è sì la tradizione cattolica ma può essere anche male interpretato c'è un errore filosofico chiamato tradizionalismo che è e la svalutazione della ragione la ragione non può conoscere la realtà non può dimostrare l'esistenza di dio solo la fede e la tradizione ci possono dire qual è la verità ci possono dire che dio esiste e questo errore tradizionalismo fideismo è stato condannato dal concilio vaticano primo da pio nono perché il vaticano primo ha definito non solo l'infallibilità del papa ma anche i rapporti tra fede e ragione quindi la fede è il complemento della ragione non è contro la ragione la ragione è il prodromo porta le soglie della fede e con la ragione io posso dimostrare con certezza l'esistenza di dio a partire a partire dall'effetto risalgo alla causa scusi proprio due parole di chiarimento perché credo sia importantissimo perché molti si riferiscono a bergoglio dicendo il papa infallibile in papa infallibile siccome ha parlato di infallibilità del papa ma in una brevissima sintesi può dire quando il papa infallibile perché non è vero che qualsiasi cosa dica bergoglio va presa la lettera perché il papa infallibile perché ci sono stati molti equivoci tra i cattolici su questo prego il vaticano primo ha definito che il papa è infallibile a quattro condizioni se parla come pastore universale della chiesa secondo se parla di fede e di morale quindi se parla di calcio o di vaccini o di virus o di medicina non è infallibile terzo se definisce quindi deve dire questa è una verità di fede o di morale definita e quindi se obbliga quarto a credere quello che ha definito di fede o di morale per esempio definisce che la madonna è stata assunta in cielo e obbliga a credere sotto pena di dannazione chi non accettasse chi non credesse quello che lui ha definito quindi ecco che il papa è infallibile parla come pastore universale più dodicesimo quando definisce l'assunzione o più nono l'immacolata concezione di fede di morale è una questione di fede che la madonna è assunta in cielo e immacolata l'ha definito il papa questa è una verità di fede e poi obbliga a credere un dogma quindi per salvarsi l'anima bisogna per non perdere la fede per non cadere in eresia bisogna credere a quello che la chiesa ha definito a queste quattro condizioni il papa è assistito infallibilmente non può insegnare l'errore se il papa non parla come pastore universale non parla di fede di morale non definisce o non obbliga a credere ecco se non ci sono queste quattro tutte quattro le condizioni non è assistito infallibilmente quindi può esserci l'errore non è detto che sbagli sempre però può esserci l'errore l'errore non c'è se il papa applica queste quattro condizioni allora il tradizionalismo quindi è una parola che può essere mal interpretata e si parla soprattutto per san pio decimo di integralismo cattolico o di cattolicesimo integrale e coloro che volevano essere cattolici non solo come i liberali come singoli individui ma anche nella società perché l'uomo è un animale sociale è fatto per formare una famiglia più famiglie formano un paese più paesi una città più città formano una nazione quindi se l'uomo deve dare a dio il culto che gli ha dovuto come singolo anche la famiglia deve onorare dio anche il paese deve onorare dio anche lo stato la nazione la patria deve onorare dio quindi ecco integralmente cattolici noi non possiamo non fare politica è stato il motto di tutti i grandi papi sino a pio dicesimo politica in senso buono non partitica democrazia cristiana la chiesa deve dare la sua dottrina e questa dottrina il vangelo deve informare non solo l'individuo la famiglia il posto di lavoro la scuola l'ospedale lo stato le leggi il tribunale tutto deve essere informato dalla legge naturale divina rivelata da quello che Gesù ha rivelato e da quello che ci ha comandato di fare e ci ha proibito di non fare allora ecco questo pontificato di san pio decimo nella linea di gregorio sedicesimo di pio nono di leone tredicesimo che sarà poi seguita anche da papi che forse nel modo di agire sono stati più moderati ma che non erano assolutamente liberali o modernisti come benedetto quindicesimo più undicesimo più dodicesimo sono stati papi date le contingenze specialmente più dodicesimo benedetto quindicesimo che hanno dovuto pontificare durante la prima guerra mondiale benedetto quindicesimo la seconda più dodicesimo che hanno dovuto essere molto cauti perché una parola in un ambiente in cui già c'era una guerra mondiale avrebbe fatto scoppiare due guerre mondiali in contemporanea quindi per forza di cose dovevano essere molto molto cauti allora ecco che il pontificato di san pio decimo è un pontificato integralmente cattolico come lo sono stato tutti i pontificati fino a pio dodicesimo quello di pio decimo in maniera particolare capì lui e è morto di questo che sarebbe scoppiata la guerra diceva sempre verrà il guerrone e infatti è morto il 20 agosto del 14 pochi giorni dopo che era scoppiata la prima guerra mondiale perché capiva il disastro che sarebbe venuto dopo questa guerra mondiale noi adesso stiamo ancora all'atto finale della prima guerra mondiale che non è finita nel 18 la seconda guerra mondiale il secondo atto della prima guerra mondiale è una guerra voluta dalla massoneria contro le patrie contro l'europa contro la civiltà greco latina contro la chiesa cattolica nella seconda guerra mondiale abbiamo avuto un altro grosso colpo che ha distrutto non totalmente mezzo distrutta l'europa adesso abbiamo avuto il colpo di grazia ci hanno completamente rovinati siamo invasi dai musulmani è il meticciato gli stati cattolici non esistono più la sovversione penetrata all'interno dell'ambiente ecclesiale e purtroppo ecco è questo è l'atto conclusivo della prima guerra mondiale pio decimo l'aveva capito benissimo il piano calergi comincia a prendere corpo in maniera strutturata proprio con la con lo scoppio della prima guerra mondiale la seconda da bel passo avanti e adesso il concilio il 68 il covid eccetera eccetera ha dato il colpo di grazia ora questo pontificato integralmente cattolico lotta contro il modernismo che cos'è modernismo non è ciò che è il progresso sano ciò che a noi contemporaneo e attuale per modernismo si intende il mondo moderno la filosofia moderna che è nata con cartesio quella concezione che mette il soggetto l'io al posto dell'oggetto della realtà e di dio allora in filosofia abbiamo to cartesio cogito ergo summa in regione lutero è quello che penso io non è la chiesa non è la tradizione sono io che mi faccio l'idea di dio quindi il soggettivismo nella religione e poi in politica machiavelli e russo la politica non è più e la virtù di prudenza vissuta nella società aristotele santo masso spiegano che c'è una virtù di prudenza monastica che deve vivere ogni singolo uomo la quale mi fa scegliere i mezzi migliori per cogliere il fine io devo andare a milano allora dico come ci vado con la bicicletta con l'autostop con il treno con l'autobus o con l'auto con l'aereo il prudente colui che sceglie il mezzo migliore per cogliere il fine devo arrivare a milano per le due per forza di cose devo prendere l'aereo ecco il prudente quello che prende l'aereo se prende il treno o ci va in bicicletta salta l'appuntamento non è prudente questa è la monastica poi l'economia è la virtù di prudenza nella famiglia e allora si vede già la differenza grossa tra l'economia e la crematistica la crematistica pecuniativa o arte di arricchirsi la finanziaria quella che si vive oggi non ha nulla a che fare con l'economia è volersi arricchire come fine mentre l'economia è applicare la prudenza scegliere mezzi migliori per mandare avanti la famiglia il focolare che era l'antico concetto di aristotele poi se non sbaglio aristotele ripreso da sant'ommaso e da tutti i grandi scolastici e dal magistero della chiesa sino a pio dodicesimo poi purtroppo questa concezione cattolico liberale con giovane ventitresimo paolo sesto è penetrata all'interno della chiesa quindi anche quando si riabilita benedetto sedicesimo ha cercato di conciliare il cattolicesimo con liberismo il grave difetto di benedetto sedicesimo è quello di aver conciliato la dottrina cattolica dal punto di vista sociale con milton friedman con la scuola di chicago quindi non è senz'altro un marxista ma l'alternativa al marxismo non è il liberismo di friedman della scuola di francoporte della monpower and society di hayek friedman e misses è la dottrina cattolica come aveva spiegato le una tredicesimo non due errori opposti socialismo e liberismo sono due materialismi uno per i ricchi uno per i poveri uno di destra uno di sinistra ma la vera alternativa è il vangelo la dottrina cattolica è la sana concezione della politica come è stata formulata da un punto di vista naturale d'aristotele perfezionata dal vangelo e poi speculativamente approfondita da santo masso da quino e tutta la scuola della seconda e terza scolastica quindi ecco che riassumo nel nomi che ha fatto in ordine cronologico così prendiamo un filone anche cronologico degli elementi della dissoluzione allora martin lutero poi machiavelli cartesio russo e poi in un simposio precedente mi sembra che avevamo parlato anche di hegel e heidegger è giusta la sequenza giusto la modernità è quel movimento e filosofico religioso politico che mette il soggetto al posto dell'oggetto lio al posto di dio l'uomo al posto del creatore e quindi religione e lutero in politica machiavello russo in filosofia cartesio fino a hegel allora ecco che e sampio decimo vuole questo pontificato integralmente cattolico che fondi tutto l'individuo la famiglia la società quindi non solo il singolo ma anche la sana economia anche la politica come polis come civitas la città è un insieme di famiglie se la famiglia è un insieme di uomini e l'uomo è creato da dio e deve a dio il culto che gli è dovuto la famiglia deve a dio il culto che gli è dovuto la famiglia starà in ordine se in questa famiglia regna l'ordine naturale divino così la città così lo stato e allora ecco avrò un individuo in ordine una famiglia in ordine l'economia una politica una polis una città uno stato in ordine se fa delle leggi che sono conformi alla legge naturale quando uno stato comincia a legalizzare l'aborto il divorzio ecco che fa delle leggi che sono contrarie alla legge naturale non uccidere e alla legge rivelata poi da dio perché dio la rivela perché la ragione umana arriva capisce che non bisogna uccidere però siamo feriti dal peccato originale per noi è più facile fare il male che il bene siamo soggetti all'ignoranza e allora dio nella sua infinita bontà e saggezza vuole rivelare in maniera solenne e come quando i matematici si davano alla fine la soluzione del problema per cui io arrivando avevo 4b se nei miei calcoli arrivavo a 4b significa che avevo svolto bene il problema se invece mi risultava 5a dovevo rifare tutto da capo allora ecco che dio mi dà il risultato rivela i dieci comandamenti non perché l'uomo non ci arrivi come dicevano i tradizionalisti la ragione umana non è capace di cogliere la verità no la ragione umana è capace però è anche ferita dal peccato originale non è distrutta ma è ferita è inclinata all'ignoranza quindi corre il rischio di smarrirsi allora è bene che dio ci dia un aiuto e ci riveli quello che noi potremmo con la ragione negare san pio decimo quindi porta avanti questo fortificato molto fermo che non solo afferma la verità ma condanna l'errore l'ampio decimo è quello che ha capito che non si può quello che poi è la palissiano che l'ha messo in pratica non si può affermare la verità senza condannare l'errore lei è stato maestro e se lei non avesse potuto correggere il bambino che diceva che il tre tre fa trenta non avrebbe potuto insegnare la matematica ai bambini deve anche correggere l'errore san pio decimo ha fatto la stessa cosa non solo in teorie ma in pratica e non solo l'errore ma l'errante perché se non c'è un bambino che dice tre più tre uguale dieci l'errore non esiste l'errore senza l'errante in filosofia aristotica le azioni sono dei soggetti se non c'è un soggetto un bambino che dice tre tre dieci l'errore matematico non esiste saremmo senza errori e quindi la battaglia va fatta contro l'errante non contro errore non per odio dell'errante in quanto uomo ma per correggere l'errante in quanto errante in quanto erra quando lei corregge il bambino perché ha detto tre tre fa dieci non è che vuole male a questo bambino in quanto creatura in quanto essere umano in quanto bambino no ma lo corregge in quanto erra e lei non può correggere il puro errore perché il puro errore non esiste senza un errante un bambino che dice un errore e allora lì non bisogna prendere a botte un bambino che dice tre più tre dieci ma bisogna dirgli guarda tre più tre tre e tre a sei conta metti tre dita da una parte tre dall'altra e arrivi a sei non arrivi a dieci bisogna anche correggerlo san pio decimo mette in pratica questo in maniera molto molto ferma è stato sempre fatto nella chiesa chi qualche papa l'ha fatto in maniera molto severa qualche d'uno è stato meno severo san pio decimo senz'altro è stato molto severo per esempio benedetto quindicesimo ha condannato il modernismo e è arrivato la condanna dei modernisti proprio come estrema razio lui per carattere il suo pontificato qualche d'uno lo lo accusa di essere stato un liberale modernista non è vero ogni papa il suo carattere lui non era modernista ha condannato il modernismo in certi casi estremi ha condannato i modernisti però cercava di non di essere abbastanza dolce c'è quello che è più buono di carattere più pacifico più misericordioso quello che è più fermo più severo non significa che il più severo sia cattivo quello più buono che sia liberale che sia un mollacione ognuno ha il suo carattere san pio decimo è stato molto fermo ha condannato l'errore ha condannato l'errata e quindi quando scopriva il modernista lo rimuoveva era parroco gli toglieva la parrocchia era direttore di seminario lo cacciava al seminario era vescovo gli toglieva la diocesi era teologo lo scomunicava e per questo si è servito del sodalizio in piano ma perché doveva capire modernista si nascondeva e lo sodalizio in piano lo aiutava a vedere chi fosse modernista chi no poi nel sodalizio in piano ma qualche d'uno ha ha esagerato ha cominciato a vedere modernisti là dove c'era soltanto una divergenza di opinione per esempio io ho un'opinione teologica un altro ha un'altra opinione teologica che è lecita e di battuta nella chiesa però chi esagera dice siccome la tua opinione è diversa dalla mia è erronea e allora ti denuncio come modernista anche se la tua opinione la chiesa la ammette qualche d'uno del sodalizio in piano ma ha avuto questa tendenza ma san pio decimo in questo non l'ha seguito e per quello che più dicesimo capì che l'accusa di gasparri aveva un fondamento nella realtà perché qualche d'uno del sodalizio in piano ma esagerava però san pio decimo e merri del val hanno saputo discernere quello che vi era di vero da quello che vi era di falso quello che vi era di vero quando capivano che un prelato un professore di seminario era modernista lì erano implacabili intervenivano lo rimuovevano benedetto quindicesimo è stato più più placido però quando vedeva davvero l'ostinazione anche lì come strema razzo arrivava alla rimozione san pio decimo invece rimuoveva immediatamente è stato molto molto energico e fermo era il suo carattere anche quando lui era parroco a tombolo uscì col santissimo sacramento e passando davanti un'osteria un uomo bestemmiò allora san pio decimo finita la processione tornò andò all'osteria prese il bestemmiatore e davanti a tutti davanti al paese lo malmenò lo prese a schiaffi per dare una lezione non si bestemmia e il paese capì e quindi quando nel processo di beatificazione venne fuori questo questo fatto e qualcuno disse non possiamo beatificare un violento la risposta fu no e perché c'è una santa violenza una santa collera e Gesù l'ha praticata per prima per cui ecco san pio decimo proprio di carattere era così era un uomo forte energico un contadino un parroco che il maresciallo dei carabinieri perché il parroco il maresciallo dei carabinieri grosso modo è avevano lo stesso carattere e non era un diplomatico non era uno che era stato sempre chiuso in seminario nella curia ma uno che si era fatto le ossa in mezzo alla gente che prendeva anche sganassoni che bestemmiava e naturalmente quando vedeva qualche prete che razzolava male che sgarrava che era modernista che insegnava l'errore lo rimuoveva senza tanti complimenti si era messo vicino un grande diplomatico come merri del valma che era anche un uomo tutto d'un pezzo per cui è stato un pontificato davvero che è andato avanti e dritto come un treno ecco che eletto nel 1903 già nel 1907 condanna formalmente il modernismo c'è il lamentabili 3 luglio 1907 e l'enciclica faccendi 8 settembre 1907 però già la prima enciclica che scrisse e il supremo apostolato scattedra eletto nell'agosto 1903 ottobre mi sembra del 1904 esce la prima enciclica nella quale dice il c'è questa frase il mondo attuale moderno è talmente impregnato di io di luciferismo di rivolta contro dio che ci possiamo domandare se il figlio della perdizione anticristo non sia già in mezzo a noi perché l'essenza del regno dell'anticristo è il culto dell'uomo il culto dell'io e oggi come oggi col modernismo il mondo moderno l'idealismo il soggetto al posto dell'oggetto l'io al posto di dio si assiste al trionfo del culto dell'uomo l'antropolatria l'antropocentrismo è questo questa è la rovina questo è il regno dell'antichristo quindi san pio decimo fu davvero profetico in quello 1907 l'enciclica di cui poi parleremo la sviscereremo e la paciente che è un vero capolavoro che è stata anche elogiata odiata e elogiata per esempio elogiata da due idealisti che non erano senz'altro i cattolici integristi benedetto croce e giovanni gentili erano due filosofi idealisti ma che hanno ammirato il genio di questa enciclica che è stata veramente geniale per cui loro non stimavano molto i modernisti pur essendo idealisti erano due persone che soprattutto gentile poi la vita l'esempio la morte che ha fatto pur purtroppo avendo una falsa filosofia sono persone che hanno dato un esempio soprattutto gentile di rettitudine di vita morale e di impegno sociale coerente sino alla fine fino all'effusione del sangue allora ecco che san pio decimo 1907 l'anno cruciale della condanna del modernismo 1910 impone il giuramento antimodernista ogni seminarista quando è ordinato su diacono poi diacono e sacerdote deve il giorno prima dell'ordinazione giurare con la mano sul vangelo e ha scritto questo questa professione di fede in cui si condannano tutti gli errori deve pronunciare questa professione antimodernista e questo giuramento antimodernista poi è stato tolto da paolo allora poi nel 1917 viene promulgato il cosiddetto canonico da benedetto quindicesimo ma la l'avvio della riforma è avvenuto sotto pio decimo quindi il pontificato di pio decimo è stato un pontificato antimodernista di lotta contro l'errore ma anche un pontificato molto pastorale in senso buono della parola non come il vaticano secondo la sana pastorale la sana riforma o contro riforma nella chiesa la fatta il concilio di trento la fatta san pio decimo codici tocanonico al quale hanno lavorato pietro gasparri e eugenio pacelli due grandi giuristi catechismo di san pio decimo minore e maggiore due capolavori la riforma liturgica il breviario le rubriche del messale il canto gregoriano più gregoriano meno polifonia insegnare nei seminari nelle parrocchie canto gregoriano quindi non attenzione bei cantici in lingua vernacolare ma durante la messa no prima e dopo sì durante la messa no poco organo molto gregoriano quindi ha curato molto san pio decimo la riforma sana dei seminari la vita del clero gli esercizi spirituali e ha portato avanti poi nel 1910 si ritorna alla prima comunione a sette anni per dire quando uno ha l'età di ragione poi qualcuno a cinque anni già lo capisce ci sono dei bambini a cinque anni già gli do la prima comunione perché sanno discernere il pane dall'ostia e conoscono il catechismo alla perfezione fa impressione ora questa comunione veniva data già il concilio quarto lateranense 1215 concilio di trento che finisce nel 1552 mi sembra davano comunione a al sorgere dell'età di ragione quando il bambino discerne il pane dall'ostia consacrata gli si può dare la comunione purtroppo poi i gianzenisti hanno un po stoppato questa pratica della chiesa e quindi dopo il concilio di trento sino a san pio decimo la prima comunione la si dava verso i 12 13 anni san pio decimo invece ritorna impone nel 1910 no la prima comunione si darà al bambino non appena questo bambino sarà capace di discernere l'ostia consacrata che contiene gesù corpo sangue anima divinità da il semplice pane a bologna c'è il corpo della beata imelda lambertini una ragazzina bolognese che era santa e desiderava fare la prima comunione se non che siccome non aveva ancora 12 13 anni non le dettero la comunione e lei desiderava talmente riceverla che mentre le più grandi celle lei assisteva a questa cerimonia ricevevano la prima comunione un angelo portò a lei l'ostia consagrata e lei poi è morta in onestasi di amore è stata poi beatificata canonizzata e sepolta a bologna adesso non mi ricordo esattamente la chiesa si sia san petrolio una chiesa molto bella bologna ha dei grandissimi santi per esempio santa caterina di bologna che è rimasta seduta e non è appoggiata è rimasta incorrotta è morta nel 300 1300 incorrotta si vedono ancora i capelli le unghie certo in carta pecorita e seduta perché era morta naturalmente di stessa ma siccome dovevano portarla giù nel convento lei era obbedientissima e non si passava perché sai con venti una volta avevano scale strette strette come facciamo allora la superiore da morta e disse tu che sei stata così obbediente adesso mettiti seduta e fai in modo che possiamo portarti e lei da morta si mise seduta è rimasta ancora adesso fa impressione lei 700 anni dopo vede questo corpo mummificato ma ancora incorrotto di questa persona che da morta si è messa seduta adesso i razionalisti ci ridono sopra però va a spiegare un po quel fenomeno come la beata Imelda Lamberti quindi san pio decimo dice no riforma si rimette la comunione non appena il bambino riesce a discernere il pane dall'ostia quindi lo si forma col catechismo lo si prepara bene e ha fatto tanto tanto bene a tante anime nel 1911 esce il breviario romano di nuovo quello del concilio di trento riformato come rubriche non deformato come ha fatto san pio decimo la liturgia delle ore ha distrutto non è più il breviario romano come la messa nuova di paolo sesto non è una riforma come quella che ha fatto san pio decimo delle rubriche san pio decimo ha ripreso la messa di tradizione apostolica resa obbligatoria da san pio quinto in tutto l'orbe mentre prima si celebrava solo a roma san pio quinto non ha fatto nient'altro che rendere obbligatoria per il mondo quella che era la messa apostolica san pio decimo ha ritoccato qualche rubrica e la resa obbligatoria quindi è un papa fortemente riformatore nel senso buono della parola e bisogna sapersi riformare rinnovare in senso buono io la mattina mi faccio la barba non posso andare con la barba vecchia questo non è tradizionalismo è è sciatteria bisogna avere un sano rinnovamento è quello che vuol dire riproporre la tradizione in linguaggio accessibile moderni non quello che è stato fatto adeguarsi alla mentalità moderna è questo farsi capire certamente io oggi parlo usando il linguaggio del 2020 se mi mettessi a parlare col linguaggio di dante alighieri a parte il fatto che non sarei neanche capace è molto più bello di quello che dico io ma non mi capirebbe nessuno quindi bisogna farsi capire se uno parla per non farsi capire e allora inutile che parli quando parliamo ci dobbiamo far capire mettersi alla portata degli altri insegnare la verità facendosi capire quello che ha fatto san pio dei scusi 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 questa interruzione perché le voglio dire cosa ha scritto un post che mi sono proprio segnato io volevo leggere alla fine una amica del canale che si chiama giuditta proprio su questa cosa e il riferimento a un suo intervento ha scritto molto molto interessante e da accessibile anche a me che non ho studiato se non in maniera autodidatta così la verità si capisce facilmente invece se è riservata un'elite non è verità ma spesso nasconde qualche imbroglio penso che ha visto proprio bene questa amica giuditta bravo è proprio quello che diceva lei prego prego don bosco che era un grandissimo santo che ha fatto molto bene che ha educato la gioventù ma è stato anche un grande genio se lei vede l'opera omnia di don bosco sono trentasei volumi è un'enciclovedia però quando faceva le prediche poi il sabato chiamava la madre che era analfabeta mamma margherita faceva la predica alla madre diceva se tu qualche cosa non la capisci alzi la mano allora fino a che la madre non avesse capito ogni singola frase lui rivedeva e quando la madre ha capito tutto lui faceva la predica e tutti lo capivano perché se no è inutile parlare parlare fare le prediche per non farsi capire è del tutto san pio decimo san giovanni bosco san tommaso suono questo runner se lei legge runner che ci capisce io non ci capisco niente forse non lo capisce neanche runner fanno finta di averlo capito ma non lo capisce nessuno e come una volta misero all'incontrario un quadro di picasso sopra stava sotto il sotto stava sopra forse lo faceva apposta e tutti i critici a dire questo significa questo e poi addirittura mi sono sbagliato l'ho messa l'incontrario quindi se uno il libro di runner lo comincia a leggere dall'ultima pagina la prima o dalla prima l'ultima non cambia nulla perché non significa nulla allora ecco la grandezza di san pio decimo grande santo quindi riforma anche la liturgia comunione a sette anni il nuovo breve iario romano e però aveva anche un aspetto molto semplice per esempio andava di moda in quegli anni il tango il ballo il tango è un ballo un po sensuale e qualche uno voleva che condannasse a tutti i costi il tango allora lui diceva fatevi io non lo conosco fatemi un po' vedere questo tempo gli portarono due ballerini che ballarono il tango diceva io non ci vedo tutto questo male per cui io non lo condanno non ballate lo fate attenzione però mette che il papa debba arrivare a condannare il tango non mi sembra il caso quindi era anche un uomo pieno di buon senso per quanto riguarda la politica san pio decimo ebbe anche molto un pontificato molto politico in senso buono è perché tolse il non è spedito e quando i piemontesi entrarono a roma che successe pio nono disse non è conveniente non è spediente che i cattolici vadano a votare per questo regno che ha rubato le terre del papa allora ecco che però che succede che i cattolici non andavano a votare andavano a votare socialisti e liberali e quindi la povera italia che al 90 per cento la fatta di cattolici era governata da massoni e da social comunisti allora san pio decimo col buon senso del contadino dice beh qui allora dobbiamo togliere non è spedito direi cattolici voi andate a votare solo a condizione che coloro che voi voterete si impegni a fare poi delle leggi conformi a quella naturale e divina quindi io ti eleggo però tu devi votare contro il divorzio contro rapporto i ladrucini o la bestemmia eccetera devi fare delle leggi a questo serve l'autorità delle buone leggi che siano conformi alla verità alla natura e alla morale naturale e allora ecco che condanna il anche il modernismo sociale il cosiddetto sillion la democrazia cristiana sono tutti errori democrazia cristiana romolo murri errori condannati sotto san pio decimo romolo murri comunicato da san pio decimo perché applicava alla politica il modernismo la democrazia cristiana non è nient'altro che il modernismo dogmatico applicato a livello sociale e san pio decimo lo ha condannato anche sotto pio dicesimo pio dodicesimo feci condannare mor e mariten il lumanesimo integrale nel 36 esce questo libro mariten è nato come allievo di bergson poi si convertì ebbe una prima fase era una persona molto intelligente studiò san tommaso capì la grandezza e quindi i primi scritti tomisti di mariten sono buoni poi nel 36 però aveva questa tendenza un po devo cristiana nel 36 lui si schierò contro franco a favore dei dei rossi come montini il fratello dei montini il senatore montini democristiano combattuto con i rossi in spagna quelli che ammazzavano i preti allora ecco che mariten rivede le sue concezioni e scrive questo libro umanesimo integrale pio dicesimo non lo apprezza e da ordine al direttore della civiltà cattolica padre messineo di stroncare di studiare stroncare l'umanesimo integrale sulla civiltà cattolica e uscì questo articolo di padre messineo umanesimo integrale uguale ateismo integrale e radicale più dodicesimo lo apprezzò disse però è stato troppo dolce dove essere ancora più più fermo quindi vedete anche pio dodicesimo dicono che è stato moderato papa dei silenzi ma perché non poteva parlare per non far scoppiare altre guerre però a messineo gli disse apertamente così allora ecco che condanna la democrazia cristiana il partito popolare il sillione in francia è un modo di chiamare in francese democrazia cristiana nel 1905 in francia rompe col governo francese con la repubblica francese che era liberal masonica quindi rompe il concordato dice non voglio più i soldi dello stato il prete dovrà provvedere a se stesso e sarà mantenuto dai cattolici fedeli con i cattolici hanno apprezzato questo e hanno mantenuto loro i parroci tanto è vero che in francia il parroco non è mantenuto dalla chiesa è mantenuto dai fedeli e i fedeli a questa cultura in francia in italia no sono abituati alla congrua il prete prende soldi dallo stato perché c'è il concordato in francia sanno che il prete ha bisogno del fedeli fedeli molto più generoso in francia col prete in italia non lo capiscono il prete tradizionalista che non prende la congrua e se la passa un po male in italia in francia no ma in l'italia sì perché i fedeli non sanno che lui dallo stato non prende nulla allora ecco che il papa ruppe fu una decisione non facile perché rinunciare al concordato alla congrua sono cose che fanno comodo ma san piodecimo ci rinunciò nella guerra italo turca 1911 anche lì lui fu neutro se non non possiamo in libia schierarci con l'italia siamo italiani ma contro i libici perché la santa sede deve stare al di sola delle parti per questioni di guerre conflitti bisogna cercare di mettere la pace se si può non è una crociata non è una guerra religiosa come è successo faccia conto in spagna la santa sede ha fatto bene appoggiato quelli che avversavano i rossi perché difendevano la chiesa quella è stata l'ultima crociata come in messico e cristeros per quanto riguarda l'undici la santa sede si mantenne al di sola delle parti quindi quando si vuol mettere in contrapposizione benedetto quindicesimo con pio undicesimo o benedetto quindicesimo con san piodecimo con pio dodicesimo pio dodicesimo benedetto quindicesimo hanno fatto né più né meno quello che ha fatto san piodecimo ha mantenuto la chiesa madre di tutti al di sopra di tutti ognuno può avere le sue preferenze però la chiesa deve cercare valora non è coinvolta la fede e la morale di essere madre di tutti si stanno ammazzando scannando purtroppo i governi spingono i cristiani a ad ammazzarsi tra di loro come è successo soprattutto quella prima la seconda guerra mondiale e la chiesa ha fatto bene a mantenersi al di sopra delle parti e poi ecco che il 20 agosto primi giorni della prima guerra mondiale muore muore all'una e un quarto di notte era un uomo molto forte ma il cuore ha ceduto non ce l'ha fatto il dolore l'ha ammazzato il dolore diciamo sempre verrà il guerrone lui soffriva di gotta pur essendo un povero la carne non la vedeva neanche da lontano soffriva di gotta e gli facevano male i piedi però si diceva che le calze di san piodecimo gliele chiedevano perché facevano miracoli già da vivo lui diceva sarà io me le metto tutti i giorni e il male che ho ai piedi come fanno aveva lo spirito lo spirito dell'umore una volta si dice un giudice che era bello grasso andò in udienza si sedette e i pantaloni crack ora lui scherzando disse il diesire iudex ergo un serebit quid quid latet apparebit quando il giudice si siederà tutto ciò che è nato apparirà era un tipo era un tipo scherzo però era era anche abbastanza severo nel 1944 avvenne la ricognizione del corpo il 19 maggio poi fu fatta la beatificazione e nel 51 fu dichiarato beato il 3 giugno del 1951 nel 44 era papa bio dodicesimo mandò a fare la ricognizione ma roma ancora penso che oddio gli americani sono entrati il 6 giugno 4 giugno mi sembra quindi 19 maggio del 44 si stava lì lì e magari volavano ancora qualche qualche bomba qualche schioppettata e poi il 3 giugno del 51 viene beatificato mia nonna con l'altra nonna e assistettero a prima di beatificarlo per lo portarono dalle grotte vaticane nel primo adesso se lei va a san pietro come entra a san pietro e il primo altare a sinistra c'è il corpo di san pio decimo quindi l'entra a san pietro cerca il primo altare a sinistra guardando l'altare della confessione c'è il corpo di san pio decimo quando lo fece una ricognizione nel 44 era morto nel 14 vediamo passati 30 anni il corpo era incorrotto per farlo beato gli misero la maschera di cera mia nonna e l'altra nonna che assistevano alla cerimonia hanno visto tutto quasi erano nascoste non uscirono quando chiusero la basilica dentro la colonna poi le vide ora mai state qui vedete tutto allora videro tutta la cerimonia poi nel 54 canonizzato ecco la grandezza di san pio decimo io raccomando ci sono delle biografie molto buone il capolavoro è quella di padre girolamo dal gall uscì come beato pio decimo perché ancora non era stato canonizzato è del 1940 la prima edizione ancora non era stato fatto neanche beato fu fatto beato nel 51 però abbiamo l'edizione 40 quando già lo chiamavano beato è della libreria editrice fiorentina non so se sia stato ristampato ultima uno del 2014 delle paoline di cristina siccardi san pio decimo bello quello può essere letto e poi meri del val che ha scritto per il messaggero di sant'antonio di padova le sue memorie su san pio decimo lui che l'ha conosciuto meglio di tutti allora questo qui è la vita di san pio decimo adesso comunque prima di passare alla vicenda questo episodio di queste nonne birichine che ogni tanto riemergono e che si erano nascoste mh la dicono lunga anche il filone familiare della ribellione comunque chiudiamo questo episodio e discorso e andiamo avanti con la passione di don corso lei è bravissimo spiega in un modo veramente di una chiarezza è un dono di dio anche questo prego passendo allora la passione di la possiamo semplificare così san pio decimo cosa dice il modernismo parte con l'errore dell'agnosticismo a dire l'intelletto umano non può conoscere la realtà quindi non può conoscere la verità però siccome l'uomo ha bisogno di qualche certezza sono io il soggetto che crea la realtà e la vita cant riprendendo da cartesio allora fenomenismo gli inglesi il sensismo l'uomo ha una conoscenza puramente sensibile come l'animale invece no io oltre l'animale per ragione ho una conoscenza razionale che l'animale non ha o il relativismo tutto è relativo per me così per un altro eccola invece ci sono delle verità per sé note evidenti che sono oggettive ora ecco che da questo agnosticismo capacità non capacità di conoscere la realtà la verità da questo soggettivismo relativista che svaluta il raziocinio la sana ragione la quale non bisogna essere razionalisti far della ragione il padre eterno ma neanche distruggerla come ha fatto l'utero la sana ragione ci porta le soglie della fede invece costoro mettono l'immaginazione il sentimento il sentimentalismo al posto della ragione quindi ecco che dall'agnosticismo si arriva all'ateismo san pio X dice il passaggio non si capisce tanto perché non è logico per noi ma loro sono fatti così non bisogna cercare la logica in un egheliano che vive di contraddizioni in un cantiano il modernista è un egheliano è un cantiano è un soggettivista o relativista quindi parte dall'agnosticismo arriva all'ateismo e il modernista è ateo quando uno sente le bestemmie contro dio la trinità la madonna proferite da teologi modernisti da prelati modernisti non deve meravigliarsi perché l'ha spiegato tanto bene san pio X il modernista è ateo dio è lui non c'è un dio oggettivo al di fuori di noi io ho creato dio siccome io ho bisogno di dio ecco questo concetto di dio l'ho creato io col mio intelletto poi secondo errore del modernismo l'immanentismo vale dire dio la verità è immanente all'uomo è l'intelletto umano che crea ogni verità soggettiva dio è immanente all'uomo perché è il mio intelletto che crea il mio dio non c'è un dio reale oggettivo al di fuori di me al di sopra di me io ho il mio concetto la mia idea di dio lei ha la sua giovanni la sua mustafa la sua salovone la sua l'ebreo il musulmano il cristiano ognuno ha la sua idea di dio però tutte e tre questi dei che sono prodotti dell'uomo sono veri perché sono prodotti di un bisogno soggettivo che ha l'uomo il bisogno di dio il grande architetto dell'universo della mascheria anche quello è una buona idea di dio è qualche uno che ci aiuta a comportarci bene terzo errore l'evoluzionismo dogmatico e di come l'evoluzionismo non è soltanto quello di darwin genetico ma anche quello filosofico teologico il dogma evolve per noi cattolici c'è un'evoluzione intrinseca dire io posso penetrare sempre meglio approfondire spiegare capire sempre meglio in profondità il dogma la verità il vangelo fare commenti sempre più approfonditi i padri della chiesa ognuno ha approfondito quello che ha detto il precedente come dicevano i filosofi mediali noi siamo dei nani sulle spalle di giganti quindi dobbiamo avvalerci del passato e possiamo vedere più alto del gigante non perché noi siamo più alti ma perché siamo un nano ma sta sulle spalle di una tradizione che ci ha portato per anni 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 e quindi noi godiamo di questa altezza allora ecco queste evoluzioni sono per loro invece si passa da una verità un'altra non è che io approfondisco la stessa verità come lo stesso uomo che da piccolo diventa grande no si passa da una sostanza a un'altra da una verità a un'altra quindi non è più l'essere ma il divenire tutto evolve è che il bergson spinozza degli arde chardin quando uno sente degli arde chardin è possibile che un teologo ha detto certe corbellerie che dal nulla viene la materia dalla materia viene l'uomo dall'uomo viene il cristo omega l'uomo tende a il cristo totale al cristo cosmico questo cosmico c'è tutto nel cristo cosmico è un insieme di tutte le cose questo è il concetto di degli arde chardin perché parte da questa concezione modernistica e non bisogna dimenticare che nel 1981 degli arde chardin era nato nel 1881 morì nel 55 e giovanni paolo secondo mandò un telegramma di felicitazioni per il genio filosofico religioso di tagliar de chardin che fu pubblicato in prima pagina sull'osservatore romano in 1981 quindi vedete le radici non solo di bergoglio di benedetto sedicesimo di giovanni paolo secondo di paolo sesto di giovanni ventitresimo sono queste qui sono modernisti e la de chardin a tutti gli effetti è proprio new age rientra proprio negli schemi della new age incredibile è il padre proprio è stato il padre della nouvelle teologie questa condannata da più dodicesimo e odiata poi da ratzinger quando racconta nella sua autobiografia come il suo professore schengen e l'appel e i due suoi mentori buttarono questa enciclica sul sul tavolo pieni pieni di disprezzo perché nel 1950 condannò nella humani generis la nouvelle teologie poi sospese dall'insegnamento tutti questi falsi teologi che nel 1960 dieci anni dopo due anni dopo la porta di vio dicesimo furono chiamate da giovanni ventitresimo come esperti del concilio anche lì ci vuole il cervello di marconi se questi sono stati cacciati dall'insegnamento nel 50 il papa muore nel 58 e tu nel 60 li chiami a fare gli esperti del concilio e sono quelli poi che hanno messo sotto la curia romana il cardiano taviani gli hanno spento il microfono hanno battuto le mani quando lui parlava non si sentiva nulla nella basi agli esampietti non se ne era accorto che gli avevano spento il microfono un signore febbra ha detto uno spettacolo terribile e la maggior parte dei vescovi pieni di odio contro il santo ufficio battevano le mani e il papa che stava dall'altra parte quindi si capiva che il concilio avrebbe preso una brutta strada vabbè allora vedete dio non è personale trascendente per il modernista ma il dio è immanente al mondo ecco l'immanentismo giovanni paolo secondo nelle sue prime cicliche prime tre scrive dio è immanente al mondo e lo vivifica dal di dentro in pieno te liarde l'immanentismo e giovanni paolo secondo la sub coscienza crea dio c'è qualche cosa di oscuro di inconscio di preconscio in me di cui io non mi rendo conto il sentimento oscuro profondo tenebroso infero che crea dio il dogma la religione la regione non è l'effetto di una rivelazione di un dio di un libro rivelato no è il prodotto dell'uomo quindi l'esperienza religiosa e siccome l'uomo a questo sentimento ha bisogno di provare delle sensazioni buone divine deve fare l'esperienza regio tutte le esperienze sono buone chi fa quella della droga chi fa la discoteca che si butta con la corda dal dal viadotto poi scende giù e risale su chi fa l'esperienza religiosa tutto è ridotto a psicologia sociologia antropologia tranne che tradizione se ho ben capito anche la tradizione lasciateci fare l'esperienza della tradizione qualche una vorrebbe anche quella l'esperienza della tradizione io faccio la mia esperienza della tradizione basta sentire vagamente questo concetto della tradizione e fare un po la vita come c'era quel il pastore sera fino quando ero ragazzetto io c'era il film di cerentano il pastore sera fino quello faceva l'esperienza della tradizione più sana dei beatles però anche quella ha i suoi limiti vedete però la divinità è sentita vagamente è immanente all'uomo è un prodotto dell'uomo e allora vedete noi e modernisti parliamo di dio di gesù cristo però il dio del cattolico non è quello del modernista la parola è la stessa è dio religione chiesa ma la realtà è totalmente diversa sentimentalismo cieco involontario quindi non è la volontà l'intelligenza che contano è quello che uno sente io sento cristo comunione liberazione che passavano per integralisti sono profondamente modernisti io cristo lo sento dentro faccio l'esperienza religiosa o l'esperienza di cristo la religione non è un pacchetto di dogmi di comandamenti ma è un incontro con una persona con gesù è come se io incontrassi gesù per la strada perché gesù lo creo io la chiesa per loro il sentimento segue l'intelletto e la volontà per la chiesa cattolica quindi l'intelletto e la che debbono governare il sentimento per l'utero invece no il sentimento precede dirige l'intelletto e la volontà e l'utero odia la ragione è la prostituta di satana la ragione non può nulla la volontà è stata distrutta l'uomo non è più capace di fare il bene di resistere al male vedete comodo non sono io che faccio il male la colpa è di chi è la colpa è del peccato originale la colpa è del diavolo e allora la colpa non è mai la mia e mentre il 90 per cento dei pasticci lo facciamo noi il diavolo ci spinge mai che la maggior parte lo facciamo noi e non ha bisogno troppo di di faticare certo fatica fa bene il suo lavoro ma noi tanti pasticci li facciamo proprio noi perché siamo molto limitati e deficienti potremmo dire aiutati che il diavolo d'aiuta nel male sì e nel bene lo stesso però anche tu ci devi mettere la buona volontà non è che tu stai abbracciaconserte dio fa tutto la religione è un'esperienza psicologica e quindi e vede new age individuale soggettiva spirituale che porta al panteismo né più nemmeno che panteismo è lo smarrimento dell'intelletto lo sdlinquimento della ragione per questa vaga religiosità spiritualità new age panteista e tutto questo quello che fa paura l'occultismo la subconscienza il substrato oscuro che sta oltre ma oltre al di sotto della coscienza della ragione della volontà ricco di emotività che produce purtroppo gravi disordini morali ecco questo qui è il modernismo come lo ha definito in maniera ammirabile sampio decimo voglio raccontare un ultimo aneddoto e poi chiudo mio nonno è stato un fascistone povero ragazzo lui era figlio di un notaio e lo mise era un tipo che non ammetteva sgarri il papà di mio nonno lo mise in collegio e mio nonno se ne scappò non gli piaceva di studiare allora il padre dice beh io ti facevo studiare tu saresti diventato avvocato notaio hai sbagliato adesso io ti pago il biglietto per l'america tu vai a fare il minatore in america e ci rimani biglietto di sola andata l'ha messo su una nave è andata in america siccome già da ragazzo lui andava a caccia era molto bravo scoppia poi 14 15 prima guerra mondiale lo richiamano viene in italia e gli fanno fare adesso voi ragazzi così per distrarvi un po fate un po cominciate a sparare lì si stanno dei bersagli vediamo chi è più bravo su un plotone di 5.000 nonno arriva secondo poveretto poi ho capito la scemenza che ho fatto hanno mandato a fare il cecchino ho fatto tre anni in prima linea finisce la guerra e i socialisti gli sputano in faccia perché aveva fatto la guerra ma l'ho dichiarata io la guerra voi mi sputate pure allora si è messo la camicia nera manganello eccetera eccetera mia nonna la moglie invece cattolicissima lui si era un po rivoltato non era un po anticlericale anche perché poi fu ferito proprio gli ultimissimi mesi della guerra i primi gli ultimi tre mesi fu ferito e siccome lui non poteva fare la comunione era onesto lo diceva le suole gli davano tutti gli scarti all'ospedale militare invece cappellani ci parlavano lo incoraggiava un buon ricordo dei preti pessimo delle suole quindi era rimasta abbastanza anticlericale allora sposa mia nonna quella grande fedele di san pio decimo che era proprio una mia nonna una santa davvero santa tanta fede e tanta carità e se non che quando era finita la guerra mio nonno poi purgò il prete di pietra secca quello di cui parla ignazio silone perché mio nonno è stato squadrista il prete di pietra secca una frazione di carsoli era socialista la mia nonna andò lì e dice una mano il bangrello l'altro l'olio di ricino scegli o questo o questo il prete scelse l'olio di ricino ma stette dieci giorni chiuso in casa senza poter dir messa povere allora ecco capite nonno e nonna chi erano non era il capo dell'azione cattolica quando mussolino sciolse mio nonno che poi era il capo del fascio di carsoli sciolse l'azione cattolica di carsoli finita la guerra nonna disse è l'anno santo 50 andiamo a vedere il papa mio nonno non voleva per accontentare mia nonna t'accompagna allora quei tempi 50 da carsoli a roma erano 50 chilometri ma ci si andava o con l'auto chi ce l'aveva c'era la tiburtina valedia ci si metteva tre quarti d'ora un'ora allora eh ma era un miracolo o col treno ci volevano un paio d'ore perché c'era accelerato che faceva tutte le stazioni l'ultimo treno però ritornava da roma a carsoli partiva a mezzanotte poi bisognava aspettare il giorno dopo alle nove del mattino più dodicesimo comincia a parlare e mio nonno rimane incantato dice ma questo non è un uomo dice la nonna questo è un angelo perché sembrava che non toccasse terra era davvero angelico nonna gli diceva augusto adesso andiamo perdiamo il treno poi non ce n'abbiamo un altro eh andiamo andiamo no 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 questo è un angelo nonno nonno fece perdere il treno a nonna passarono poi la notte alla stazione termini e ritornarono di giorno a carsoli quindi vedete la è quello che erano i papi una volta è quello che abbiamo adesso signore pietà con questo ho chiuso e quello anche che erano i nonni una volta abbiamo scoperto questo l'abruzzo che ci unisce da un corso e non neanche la saggezza delle nostre nonne che che ci uniscono anche mia nonna in privato le racconto un episodio di nonna a celano dai santi martiri sì sì una volta poi ne parliamo perché ho molte aneddoti con i santi martiri comunque allora concludiamo bellissimi questi aneddoti allora eh se ci dà la sua benedizione in conclusione poi concludo il video salutando gli amici io prego benedizio dei unipotenti padri siete figli del spirito santo descendo a super bossa ma nel sempre amen pace e bene a tutti buona pasqua che dio vi benedica andate a messa e infischiatevene di tutte queste semence che ci vanno dicendo grazie don curzio allora in conclusione amici voglio rileggervi questo eh breve post di questa amica che si chiama giubita perché è indicativo del lavoro che stiamo facendo anche con Don Curzio e con gli altri amici che stanno collaborando eh a questo tra l'altro nuovo canale perché tutte le le interviste saranno trasferite eh qui eh questa amica giuditta scrive molto molto interessante e accessibile anche a me che non ho studiato se non in maniera autodidatta quando è così la verità si capisce facilmente se è riservata ad un'elita non è verità ma spesso nasconde qualche imbroglio e la linearità e la semplicità che comprende anche una capacità di 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 spiegare ed esporre elementi molto complessi che possiede Don Curzio possiede proprio questo che è un vero e proprio dono eh di Dio e nel resto ammirato anch'io perché io ho insegnato sempre bambini e quindi ho passato la vita a semplificare concetti complessi. Grazie tantissimo Don Curzio e con gli amici del Toro questa è l'introduzione a degli incontri e sul commento della eh Paschendi a cui parteciperà anche il professor Lamentola eh saluto tutti quanti e eh un caro abbraccio a tutti con eh il mio canonico saluto. Un pollice su per il mio lavoro e sempre ma dico sempre eh incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo.